ciao oggi voglio parlarti di un argomento molto particolare che ho avuto modo giusto di affrontare con una persona che si è rivolta a me per farsi aiutare proprio oggi allora sicuramente tu come tutti gli altri avrai delle situazioni in particolar modo delle persone molto sfidanti accanto a te delle persone che comunque a volte ti fanno proprio scappare la pazienza oppure che ti feriscono che ti fanno del male a volte sembra quasi deliberatamente allora quello che vorrei dirti è questo a livello umano è comprensibile ma ricordati sempre che tu hai due livelli a cui è importante che acceda il primo è il livello umano in cui l'evento accade ma c'è un altro livello un livello connesso ad una consapevolezza maggiore e tu è possibile che sappia e che sia a conoscenza del fatto che quando noi veniamo qui qui sulla terra abbiamo tutta una serie di accordi che abbiamo preso con alcune anime magari molte di queste anime quelle che ci fanno disperare di più fanno parte della nostra famiglia di anime con cui magari abbiamo già lavorato altre volte ebbene quando c'è una persona con cui abbiamo un rapporto particolarmente sfidante o che comunque ci ferisce ci fa del male in genere abbiamo preso degli accordi abbiamo preso degli accordi che ci portano in una certa direzione magari abbiamo una lezione da imparare in questa esistenza che potrebbe essere la pazienza o il perdono o qualsiasi altra lezione ebbene gli accordi che abbiamo stretto con questa e con altre anime ci portano in quella direzione ossia come facciamo noi ad imparare quella data lezione è importante che incontriamo delle persone che ci sfidino a quel livello e che ci mettano di fronte al bisogno di imparare quella lezione molto spesso tu non te ne rendi conto perché magari non è detto che tu abbia accesso a livello superiore ad esempio le persone che lavorano con me spesso quando le aiuto a perdonare qualcuno si accede a quel livello a quel livello che è la dimensione in cui ci troviamo quando non siamo incarnati diciamo tra un'incarnazione e l'altra se valutiamo o se consideriamo meglio l'ipotesi che il tempo possa essere lineare ossia che noi facciamo un'esperienza di vita poi lasciamo il corpo siamo un periodo in vacanza e poi torniamo sulla terra allora diciamo in quella in quella dimensione noi abbiamo accesso proprio ad un livello di consapevolezza diversa oltre che alla possibilità di incontrare a livello di anima o meglio spirito sarebbe più appropriato quelle persone che ci sfidano e lì abbiamo l'opportunità proprio di comprendere il motivo per cui esistono queste sfide questi rapporti così diciamo sfidanti questi rapporti proprio di conflitto a volte tieni conto che queste persone che in realtà ci feriscono per fare quello che fanno devono vibrare molto basso e quindi quello che stanno facendo in realtà a noi è un grandissimo favore è un piacere profondo perché loro per portarci questa sofferenza e abbassare le loro vibrazioni quindi devono soffrire quindi in realtà facendo male a noi stanno facendo male a se stessi e quindi si grato lo so che è difficile è difficile a volte alle persone che ti fanno del male perché molto spesso c'è una lezione dietro bene quello che ti suggerisco è di prenderti un attimo un attimo per te e di comunicare proprio a livello di di anima con queste persone invitale proprio a livello di anima a venire di fronte a te e comincia a dire a queste persone tutto quello che senti tutto quello che provi tutte le volte che ti hanno fatto soffrire in modo che sia proprio per te uno sfogo dopodiché quello che ti suggerisco è di metterti nei panni dell'altra persona quindi immaginati proprio di andarti a posizionare nell'altra persona se vuoi puoi fare anche su due sedie diverse questo ti rende molto più semplice questo esercizio ossia tu metti due sedie di una di fronte all'altra su una ti siedi tu e fai te stesso ti sfoghi dopodiché quando hai terminato ti siedi nella sedia di fronte e quindi prendi l'identità proprio della persona che con cui ce l'hai con cui sei arrabbiato con cui hai qualcosa che non è stato risolto ebbene permetti all'energia di questa persona di arrivare a te e permettiti anche di sentire le ragioni per cui questa persona si sta comportando in questo modo esprimile dopodiché puoi tornare al tuo posto e da lì puoi sentire il motivo per cui questa persona si è comportata in questo modo magari l'hai già perdonata questo è un lavoro molto potente in realtà ed è un primo livello ed è un primo livello che ti permette già di perdonare la persona perché entri nei suoi panni in più se hai la capacità di accedere all'altra dimensione quindi ti prendi un attimo ti lasci avvolgere da una bellissima spirale dorata che ti permette di ascendere e di arrivare a quella dimensione questo è un esercizio un po più complicato da fare da soli già il primo potrebbe risolverti molte situazioni questo è molto più profondo quando io lo faccio fare alle persone le faccio faccio incontrare loro la persona con cui hanno questo conflitto nel momento in cui hanno stretto gli accordi e vengono fuori delle cose molto molto interessanti non è facile da fare da soli per cui ti ho proposto il primo esercizio anche se non era totalmente attinente a quanto ti ho raccontato prima perché questo ti aiuta a perdonare ed è facile tu lo puoi eseguire da solo quest'altro esercizio un po più complesso ma se ce la fai e se chiedi proprio di incontrare lo spirito di queste persone nel momento precedente alla tua incarnazione nel momento in cui magari avete stretto questi patti potresti comprendere tante cose e a quel livello è impossibile avere ancora poi rancore nella tua vita perché lì hai i perché hai possibilità di di attingere ad un campo di informazione che tu senti risuonare con te totalmente e pienamente dove ci sono tutta una serie di risposte e se viene fuori che quella persona lo spirito di quella persona ti sta facendo tribolare arrabbiare perché ti sta in realtà aiutando in merito ad una tematica che tu hai bisogno di risolvere o qualcosa che hai bisogno di apprendere beh avercela ancora con questa persona diventa veramente impossibile quindi buon lavoro fai una bella lista di tutte le persone che ti hanno fatto disperare ma vai anche indietro nel tempo puoi andare anche quando eri bambino magari un compagno d'asilo o di scuola e fai questo esercizio almeno il primo poi se riesci a fare anche il secondo il lavoro diventa ancora più completo fammi sapere come va ti abbraccio scrivi sotto a facebook sotto questo video com'è andata e se hai qualche domanda ponila lì così che io possa magari darti qualche altro suggerimento e risponderti alla prossima ciao